la vita le vite come malattie in questa oserei dire trincea che è la realtà questo è il video pasquale il ritardo ma poco importa la vita cos'è se non una grande prigione se non una grande tiranna e noi mortali per noi mortali io mi riferisco a noi esseri umani gli unici davvero mortali noi che lo sappiamo noi sappiamo che abbiamo una data di scadenza anche se non sappiamo qual è noi siamo yogurt e proprio come gli yogurt abbiamo una data di scadenza solo che lo yogurt non sa di esserci non si si sente esistere è inanimato è animata la proliferazione batterica sulla superficie dello yogurt se rimane troppi giorni aperto ma non sa di esserci quella forma di vita che noi chiamiamo batterica noi sappiamo di esserci chi ci riflette spesso sulla propria esistenza chi ci riflette meno ma tutti sanno di esistere tutti sanno di non essere eterni sanno che dei nostri affetti dei nostri legami delle nostre fatiche dei nostri traguardi non rimarrà nulla neanche la polvere rimarranno gli atomi che ci compongono mica svaniranno nel cosiddetto nulla ma quegli atomi andranno ad assumere configurazioni completamente differenti andranno a comporre una roccia il terreno un albero di te niente nessuna traccia di te che ti senti così vivo così vero così concreto così importante concreto perché la vita sembra davvero così vera così ineluttabile così imprescindibile in realtà siamo vani effime fiumeri fugaci fogli al vento questa è la nostra condizione disperata è una tragedia la vita è una tragedia anche se non appare quotidianamente ogni istante sempre tale ed ecco perché abbiamo molti che si illudono che la vita sia altro abbiamo tanti che pensano che la vita sia solo il presente quindi oggi sto bene la vita è meravigliosa oggi sto male la vita è un inferno ma tu non stai parlando della vita stai parlando del tuo immediato presente se vogliamo parlare della vita dobbiamo analizzare l'intero percorso dalla culla alla tomba e sapete chi è l'essere umano più fortunato in assoluto? quello che non nasce ma dopo di lui sapete tra i nati qual è l'essere umano più fortunato? se ci pensate bene se ci pensiamo bene il più fortunato è colui che nasce in un contesto geografico non favorevole in una famiglia con una decente capacità di amare senza traumi infantili spensieratezza dell'età infante leggera inquietudine pre-adolescenziale e adolescenziale però solo parziale in mezzo a coetanei con cui si va d'accordo divertimenti spensieratezza relativa e poi senza aver vissuto chiaramente i pigiati sgradevole senza aver subito bullismo senza essersi sentito solo questo pargoletto un bel giorno camminando su di una marcia a piede viene investito da un tir e muore all'istante senza neanche percepire dolore se vogliamo questa è la condizione, la situazione è un esempio di vita che è il miglior esempio di vita possibile perché se tu la vita la sconti tutta passa l'adolescenza, diventi più grande vedi i tuoi genitori invecchiare, i tuoi nonni morire invecchi tu stesso vedi il tuo deterioramento fisico e psichico perdi molte delle persone o degli animali a cui ho voluto bene se arrivi fino alla tomba la sconti tutta la vita e se arrivi fino alla vecchiaia è chiaro che lo vivi davvero il dramma dell'esistere poi sebbene siamo tutti nella stessa condizione, sulla stessa barca come volgarmente si dice ci sono poi situazioni soggettive differenti quindi abbiamo il vivente che in quanto vivente è in una condizione tragica a prescindere ma poi abbiamo viventi che vivono tragedie nella tragedia contesti geografici sfavorevoli contesti familiari disastrosi episodi specifici segnanti malattie che possono sorgere imprevedibili nel corso dell'esistere che rendono questo percorso prima della tomba ancora più arduo se dovessi descrivere la vita più favorevole di tutte è l'esempio che avevo citato pochi minuti fa giovane, cresce in un contesto abbastanza sano da spensare attesa, si sente anche amato primi amori e poi, tac, prima che cresca prima che vada a perdere qualcuno che ama morte in dolore ma se questa è la miglior vita possibile è facile intendere che la vita è male la vita è male la vita è tragedia lo dicono gli orientali è la base del buddismo lo dicevano i greci molti dei greci diceva Cioran diceva Leopard diceva Schopenhauer lo dice chiunque abbia un minimo di lucidità le persone vivono nell'oblio della morte ma oserei dire nell'oblio della realtà con tutte le sue nefaste sfumature quindi in che senso nell'oblio nascondere sotto il tappeto la verità e poi nella drammatizzazione della morte degli eventi delle situazioni perché la vita è una tragedia per tutti ma se tu ignori questo fatto ne sei consapevole a livello formale ma poi non ne sei consapevole a livello sostanziale non interiorizzi non trai le conseguenze profonde di questa verità fuggi cerchi di non pensarci se tu fai così non stai meglio non è vero che è meglio non pensarsi altrimenti ci si deprime se rifugi da questa verità se la scuole sotto il tappeto nel momento in cui la vita si presenta con la sua crudeltà stai ancora peggio il dramma nel dramma perché non eri preparato dovete capire che chi spera si dispera si dispera anche anche chi non spera anche chi ha compreso la verità ma chi spera si dispera ancora di più e allora a mio avviso per quanto inquietante vivere questa tragedia ed essere consapevole di questa tragedia credo che ignorarla la verità non faccia bene non faccia affatto bene e quindi quindi in questa Pasqua il giorno di resurrezione di un Dio che non esiste in quanto siamo soli qua giù dato che ci sono tanti festeggiamenti sì dai cene pranzi uova auguri così come anche durante le festività natalizie durante il compleanno il nuovo anno festa su festa gioiamo complimenti auguri nuovo anno forse tutte queste feste non sono nient'altro che degli escamotage per dimenticarci della realtà della vita è tutto vano? la vita sicuramente è vana ma questo significa che allora dobbiamo buttarci giù nel letto e addormentarci sperando di dormire il più possibile sperando che la morte arrivi il prima possibile dobbiamo lamentarci tutto il tempo dobbiamo inveire ogni giorno contro la vita no se si parla di questo argomento se è il tema in questione se ne parla ma nella quotidianità non ha senso lamentarsene ogni giorno non ha senso fare le vittime non ha senso dire basta e non faccio più niente perché se la vita è questo io non voglio fare più niente è sbagliato per quanto chi tende a dire a pensare queste cose perché davvero sei imbattuto nella verità della vita trova la mia comprensione ti capisco a meno che non sia in giustificazione semplicemente perché sei arrabbiato per cause soggettive perché c'è qualcosa nella tua situazione particolare che ti fa del male se non ci fosse quel particolare tu saresti il primo ad esaltare la vita se davvero questa forte tristezza perché hai capito cos'è la vita io ti capisco però è possibile a mio avviso fare pace con la realtà che significa amare la realtà significa dire quanto è meravigliosa la realtà no chi dice che la vita è un dono è come quello schiavo che si trova incatenato con le palle al piede col collo legato però magari siccome il padrone gli da un po' da mangiare lui esalta quella condizione ed esalta il padrone è veramente una contraddizione in termini no non dobbiamo arrivare alla follia dell'elogio della vita continuiamo a descrivere la vita per quello che è però che facciamo che possiamo fare cerchiamo cerchiamo di tenerci per mano con i nostri simili con quelli con cui ci sentiamo più affini cerchiamo di non disprezzare e non giudicare quelli che consideriamo più lontani a noi cerchiamo di non fare del male non essere vendicativi nei confronti nemmeno di chi ci fa del male perché la vita è miseria, tristezza, freddo non aggiungiamo noi odio invidia rancore dolore aggiuntivo perdoniamo tutti che non vuol dire accettiamo tutti nella nostra quotidianità però eliminiamo i cattivi sentimenti verso gli altri che sono dei disperati e più uno è stronzo più è disperato e sfortunato e quindi cosa vuoi odiarlo dispiaciti per lui allontanano magari perché non dobbiamo in questo inferno anche avere ogni giorno fastidi aggiuntivi ma con amore amiamoci diamoci per mano cerchiamo di dedicarci alle cose che ci piacciono senza essere schiavi di quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo che noi facessimo quindi cerchiamo di vivere autenticamente perché se in questo inferno dobbiamo pure indossare maschera tutto il tempo dobbiamo essere inautentici tutto il tempo dobbiamo recitare tutto il tempo dobbiamo rispettare un copione dobbiamo vivere per far vedere agli altri che valiamo dobbiamo faticare soltanto perché solo il sacrificio e il rispetto dei doveri sociali sono quelle cose che ti permettono di essere applaudito se seguiamo quelle dinamiche siamo persi autenticità autenticità libertà di fare quello che si vuole nel rispetto degli altri calore e allora la vita rimane una tragedia ma questo percorso prima della tomba che sarà la fine di un qualcosa che mai sarebbe dovuto nascere questo percorso se riusciamo a vivere in questo modo sarà un pochettino più dolce addolcito questo esistere immaginiamoci c'è una nave che sta affondando tra onde acqua fino alla gola che vogliamo fare? ci aiutiamo per riuscire ad esperare un po' di più ci abbracciamo cerchiamo di essere veri gli uni con gli altri di darci qualcosa allora prima della tomba diamo qualcosa agli altri ma non solamente cose superficiali e viva anche il piacere è un godimento di cui possiamo usufruire non certo finanziatamente al mondo altri però perché devi essere un propanatore di drammi di tragedie o qualcuno ti ha messo al modo ma tu non farlo tu sei vivo cerca di vivere al meglio addolcendo al massimo il tuo esistere ma non mettere qualcuno nella condizione di esistere perché i non nati sono già nella beatitudine non hanno bisogno di trovare il modo per addolcirsi sono già nella dolcezza, nel calore di cui non godono perché non sono coscienti non esistono ma la vera pace è quella di cui non puoi godere la pace di cui puoi godere è la miglior via per chi già c'è ma tolto chi già c'è non esiste pace migliore che la quiete di cui non si può godere se ne puoi godere significa che sei vivo e quello diventa il male minore l'amore è il male minore la riflessività essere aperti mentalmente tutti questi sono mali minori sono quelle cose che servono per migliorare l'esistere e per sopportare perché l'amore è importante nel confronto di noi stessi prima di tutto nel confronto degli altri per sopportare meglio la vita ma se tu non nasci non hai bisogno di trovare il modo per sopportare meglio la vita quindi non procreate tu che ci sei invece amati cerca di amarti, cerca di amare gli altri cerca di perdonarti perdonare i tuoi genitori perdonare quelli che ti fanno male cerca di dare, di dare, di dare ma non perché devi ma perché capisci che è l'unica cosa che davvero conta quando ti relazioni ad un altro essere umano maschio, femmina che sia parente, non parente braccialo tienilo per mano dillo fratello fratello siamo sulla stessa nave che sta affondando voglio cercare di essere una presenza che ti fa più bene che male e insieme e anche nella nostra solitudine cerchiamo di fare quello che ci va altro che sacrifici, sacrifici, sacrifici dovere, dovere, dovere carriera, realizzazione apparenza accumulo di cose accumulo di donne, uomini da portarsi a letto qualità qualità questo ci scalda il cuore intanto che siamo vivi poi rimarrà qualcosa dei nostri amori della nostra riflessività della nostra comprensione della realtà no non rimarrà niente ma non importa non importa se non rimarrà niente intanto ora ci siamo e quindi vale la vita non ha senso ma ha senso che io faccia questo video perché tu ci sei, sei vivo ora che ascolti questo video e capire queste cose ti può aiutare ora che sei vivo ha senso abbracciare qualcuno perché quando abbraccio qualcuno che ha voglia del mio abbraccio quello che si sente è l'infinito per quanto un infinito mortale non rimarrà niente di quella abbraccio non rimarrà niente di questo nostro volerci bene e amarci però intanto che ci amiamo intanto che siamo veri e ci capiamo ci capiamo veramente, ci scaldiamo veramente, ci aiutiamo veramente e questo è vero questo ha senso perché ci facciamo del bene poi non rimarrà nulla è vero ma noi dobbiamo amare allo scopo che poi tra 80 anni rimanga qualcosa dobbiamo amare dobbiamo essere veri autentici aperti di mente perché tutte queste azioni propensioni intenzioni caratteristiche ci fanno intanto che ci siamo stare meglio ci permettono di stare meglio poi chiaro siamo esseri biologici ci sono anche delle necessità per soddisfare certe necessità forse in qualche modo è anche necessario dedicarsi a un qualcosa di faticoso quindi non tutto può essere godimento, amore sì però appunto diamogli non certo la priorità a quel tempo a quelle azioni a quelle attività e anche se per qualche ragione dobbiamo dedicarsi tanto tempo perché altrimenti non riusciamo a mangiare non diamo valore a noi stessi in virtù di quelle cose che facciamo per sopravvivere non è ciò che è figlio della necessità che ci nobilita e ci aiuta a stare un po' meglio ma ciò che è realizzazione della possibilità amare se siamo umani è possibile anche se non è funzionale al sopravvivere ma tutto quello che non è funzionale al sopravvivere è determinante per la nostra felicità quello che funziona al sopravvivere interessa la vita la continuazione della specie non a noi tu rimani in vita fai tutto quello che la specie vuole che l'istinto vuole che la società vuole che la società spesso è nient'altro che moltiplicatore di quello che in realtà la vita vuole sei schiavo della natura e della società al massimo non sei vivo al massimo ti procuri da mangiare se vuoi essere felice devi dedicarti a quello che è possibile anche se alla vita non interessa e anche alla società non interessa cosa ne frega la nostra società se tu sei capace di amare ne frega niente se tu sei capace di amare non ne frega niente se tu sei empatico e sincero ok, belle cose ma che cosa produce? questo no? è il pensiero dominante ecco, tutto quello che viene causato inutile che è inutile sicuramente per la vita per la continuazione della specie e che è inutile per questa nostra società è quello che davvero conta quindi cosa vuol dire crescere maturare? cosa vuol dire diventare felice? come si può diventare felice? per felicità io intendo diminuzione dell'infelicità come ci possiamo scaldare il cuore? iniziando a dedicarci a quel qualcosa che ci hanno sempre detto tutti essere inutile o comunque non prioritario quello che vi hanno detto essere prioritario dobbiamo capire che è secondario certe volte pure superfluo se non superfluo appunto secondario tutto quello che ti hanno sempre detto essere secondario o di tua terziario o inutile è quello che davvero conta ed ecco perché abbiamo in un mondo di infelici perché ci raccontano una menzogna incredibile ci indicano una via funzionale ad essere felici che in realtà non c'entra niente con la felicità la felicità sta in ciò che quasi tutti considerano superfluo e mettono da parte un abbraccio in questa giornata ancora festiva dimenticandoci che non importano le feste le ricorrenze, le date, gli anniversari importa che tu nel cammino del tuo esistere cerchi senza dimenticare la realtà di scaldato il cuore essendo vero essendo buono essendo aperto con te stesso e con gli altri poi moriremo e sarà come se nulla fosse mai stato ma non è che la bontà è bella perché poi c'è il premio non c'è nessun premio la bontà la verità sono belle perché sono le uniche cose che possono addolcire scaldare questa miseria questa malattia che è la vita è la vita questa è la vita è la vita